Questa è la prima scambarra che abbiamo avuto quest'anno con un avversario di categoria superiore. Loro sicuramente hanno meno giorni di allenamento nelle gambe, però noi veniamo da tre settimane e passa di lavoro intenso e i ragazzi assolutamente hanno interpretato la partita in maniera quasi perfetta per il periodo che stiamo passando. È stata una soddisfazione vedere che tutti hanno messo l'anima dentro, hanno dato tutto quello che avevano. Si inizia a intravedere anche qualche trama di gioco veramente interessante, bella, fattiva e quindi è un prodromo positivissimo. Sono veramente soddisfatto alla prima, anche questo per me è il mio esordio, è la prima vittoria con una squadra di categoria superiore, ripeto, come l'Ascoli. È una soddisfazione.